Dopo due anni di indagini, i carabinieri della stazione di Passo Corese hanno risolto uno dei tanti furti avvenuti in provincia. Nel marzo 2013, una giovane di Rieti aveva denunciato il furto del proprio telefonino. Le indagini si erano subito concentrate sulle amicizie dei suoi coetani. Pertanto, attraverso lo studio dei tabulati dell'apparecchio forniti dalle società telefoniche, si è potuti addivenire attraverso la copiosa analisi degli stessi, nonché all'incrocio dei dati telefonici, al rintraccio del telefonino. Era in possesso di un minorenne, residente in un piccolo paesino della Bassa Sabina, il quale non ha saputo dare spiegazioni plausibili ai carabinieri che si sono presentati a casa per l'ultima verifica.